Notte di follia a Lucrezia di Cartoceto per due persone a bordo di un camper. Questo è lo scenario che si è presentato stamattina davanti agli occhi dei residenti. Recinzioni abbattute, pali di velti, colonnine del metano distrutte e auto in sosta danneggiate. No, ho avuto un testo, stanotte ho inteso, però non sono fatti alla fine, ho visto le macchine imparcaggiate e non ho pensato che era l'incidente. La vicenda ha avuto inizio alle ore 22 quando un gruppo di minorenni si è rivolto ai vigili urbani per chiedere aiuto. Due uomini che si erano dichiarati zio e nipote erano intenzionati a caricare su un camper gli scooter dei ragazzi al parco pubblico Martiri di Bologna. Sul posto è intervenuta la polizia locale insieme ai carabinieri di Saltara che hanno sventato il furto e riportato la situazione alla normalità. Poi intorno all'una un'altra segnalazione alla polizia locale che stava svolgendo il servizio notturno. I due malintenzionati domiciliati a Cucurano di Fano stavano devastando parchi pubblici e arredi urbani a bordo del mezzo in pessime condizioni ma ancora marciante. Hanno percorso diverse vie tra Carrare e Cartoceto, la vecchia Flaminia e addirittura l'extratta ferroviaria. La polizia locale si è immediatamente messa in contatto anche con la polizia stradale di Urbino che poi è intervenuta sia per gli esami tossicologici sia per gli esami del tasso alcolemico. I due sembrano essere risultati positivi ai test tossicologici invece negativi agli esami del test alcolemico. Fortunatamente, la devo ringraziare, la polizia locale è riuscita a fermare i due malintenzionati all'altezza di Ponte Morello, tra l'altro puntando anche l'arma contro le due persone interessate, intimandole di consegnare immediatamente le chiavi del mezzo. Il conducente, un quarantenne nato a Napoli, ha fornito false generalità agli agenti della polstrada. L'uomo infatti era privo di documenti, ma non solo perché il titolo di guida gli era stato revocato in precedenza e in un'altra circostanza era stato segnalato per guida senza patente. Si è accorta questa notte? No, io sto notte ho sentito niente, ci hanno suonato i pompieri alle 4 con quelli della distribuzione del gas e ci hanno detto che c'era una perdita, sì, quindi siamo scesi, abbiamo visto tutti i detriti, prima no. Vi siete accorti di quanto è accaduto oppure no? No, no, perché di notte, io ho sentito a un certo punto un botto, però sai di notte mentre dormi non realizzi cosa, no? Non me l'immaginavo. Quindi questa mattina si raccolgono i pezzi? Oggi si raccolgono i pezzi, sì, aspettando sopra luoghi, non so, c'è una perdita, quindi l'idraulico deve mettere a posto. Invece alla recinzione vi hanno provocato dei danni? Alla signora Pinsu. E sono ingenti i danni provocati a diversi cittadini. Sui marciapiedi e ai lati della strada ancora oggi erano presenti parti del veicolo. Il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di false dichiarazioni sull'identità e guida senza patente. E quindi insomma dobbiamo ringraziare tutte le forze dell'ordine, la polizia locale, i carabinieri, la polizia stradale di Urbino che sono intervenute e dicevo in modo particolare insomma la polizia locale di Cartoceto che devo dire ieri sera con il servizio notturno ha reso un grande servizio alla comunità e in modo particolare ai ragazzi, ai ragazzi minorenni che si sono rivolti alla polizia anche in modo impaurito. Grazie a tutti.